ciao sono di più bello benvenuti all'emotional drink siamo qui in galleria pronti a prepararvi un nostro cocktail per augurarvi un buon periodo natalizio e andremo a rivisitare il nostro grande classico cioè il classico negroni allora prepariamo questo nostro negroni questo questa rivisitazione quindi prendiamo del classico gin o london dry andiamo a versare direttamente nel contenitore dove normalmente si mette l'acqua una classica mocha deve avere molto rosso e del bitter il tutto e prima abbiamo un assietto e al bicchiere metteremo un blocco di ghiaccio e poi andiamo a comporre la nostra mocha con del ghiaccio a meno 82 gradi del caffè chiudiamo la mocha e logicamente avremo qui il nostro caffè negroni e quindi ciò è molto bello a c'è a 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